Montebello Vicentino è stato identificato e multato con una sanzione di 500 euro l'autore dello sversamento selvaggio di rifiuti in una scarbata. Si trattava di lastre di cartongesso, numerose lattine di vernice e diversi altri sacchi di immondizia abbandonati lungo la strada che collega le frazioni di Selva e Agugliana. La polizia locale, su segnalazione del comune, ha esaminato il materiale, riuscendo rapidamente a identificare il responsabile dello scempio, si tratta di un quarantenne domiciliato in paese che aveva deciso di liberarsi in modo incivile dei residui di alcuni lavori domestici. Tutto il materiale è stato poi recuperato e conferito regolarmente in discarica dalla società deputata alla gestione dei rifiuti Agno Chiampo Ambiente, la soddisfazione dell'amministrazione comunale per essere riusciti a chiudere il caso in poche ore dalla prima segnalazione.